Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it Un arvelo piantato in mezzo al prato In dove di la cosa c'era questo l'arvelo C'era un uovo, un uovo dentro al nido Un nido dalle foglie, le foglie sopra i rami I rami sopra l'arvelo, un arvelo piantato In mezzo al prato